Salve a tutti, io sono Sir Carati, questa è una battaglia online in Napoli Total War, battaglia alla quale io non prenderò parte, mi farò solo da telecronista, in ogni caso una battaglia 2 contro 2, fra la Prussia comandati da Lorenzo del clan Valerio Vitrix, la Francia comandati da Cavaliere Lord, e da questa parte abbiamo ancora la Prussia, e a sinistra abbiamo invece la Gran Bretagna. Taglierò le prime parti dello scontro, in quanto le quattro armate faranno solo qualche scaramuccia, niente di che, andiamo subito alla parte più interessante della battaglia. Gli eserciti nemici si sono barricati sulla collinetta sul fondo della mappa, come si vede, gli eserciti invece francesi e prussiani sono andati vicini per poter cercare qualche modo di tirarli giù, in ogni caso per ora la situazione è ancora abbastanza statica, fino a questo momento c'è stata solo qualche scaramuccia, niente di particolare, gli eserciti hanno perso qualche unità, ma poca cosa. Come si può vedere da questo lato ci sono gli inglesi con davanti i loro schermagliatori, da quest'altro lato c'è l'esercito prussiano nemico, così del tutto intatto, invece qui abbiamo l'esercito prussiano buono, per così dire, da questa parte i francesi, che hanno avuto molte perdite però sono ancora molto cattivi. In ogni caso le artiglierie stanno continuando a bersagliare i nemici per cercare di procurare il più grande numero di morti, i francesi perdono l'ultima unità di schermagliatori, quindi ormai hanno solo unità con portata molto ridotta rispetto al nemico. Dovranno quindi cominciare a pensare ad avanzare verso l'esercito inglese, anche se non è proprio una tattica consigliabile, stanno portando un loro obice, un secondo loro obice nelle vicinanze della battaglia, in modo da poterli utilizzare al meglio. Da quest'altro lato invece i prussiani stanno avanzando verso i prussiani, a loro volta nemici, e la battaglia sta prendendo piede anche da questa parte, anche se per ora le vittime sono molto minori rispetto al lato opposto dello scontro. Nell'angolo tra i due eserciti nemici si stanno formando le maggiori morti dei due eserciti avversari, però per ora sembrano non avere problemi nemici. Comunque sia un'unità di schermagliatori inglesi va in fuga, gli avversari rimangono con un'unità di artiglieria da 12-12 libri e un'altra unità nobice da 7 libri, il quale può essere molto pericoloso se puntato addosso alle unità giuste. Un'unità di fanteria inglese carica i francesi, probabilmente perché ha finito le munizioni. Scappa una prima unità di fanteria svizzera francese e ormai l'esercito francese ha qualche problema perché è ridotto a poche unità di fanteria, ha però l'artiglieria che può essere molto utile per aiutare i prussiani amici per così dire, i quali hanno ancora molte unità da giocare. Gli inglesi sembrano avere la meglio da questo lato della battaglia, mentre sul lato opposto per ora non si capisce bene come sta andando la battaglia perché essendo entrambi gli eserciti della stessa fazione non si capisce che è buono e che è cattivo. In ogni caso sicuramente i prussiani stanno avendola meglio. Sul lato opposto i francesi ormai stanno caricando al corpo a corpo le unità inglesi. C'è un'unità francese dietro le linee nemiche, come si può vedere però è destinata a fuggire. L'artiglieria francese sta ancora bombardando il nemico che per ora ha la meglio. I prussiani invece da questa parte sono praticamente riusciti a mandare in fuga quasi completamente gli avversari. Rimangono ancora poche unità di prussiani avversari da sconfiggere. Di certo però da questa parte ci sono gli inglesi che stanno battendo i francesi. A questo punto si nota che i prussiani, buoni per così dire, stanno arretrando dalla battaglia per cambiare posizione. Velocizzo un po' l'azione in queste fasi dello scontro perché ormai la battaglia sta entrando nelle sue fasi finali. Come si nota le unità prussiane stanno cambiando tutto. Vogliono cambiare punto d'attacco e ovviamente i nemici per ora non abbandonano la collinetta in quanto è per loro una posizione troppo avvantaggiata. In ogni caso anche il nemico cambia la propria posizione e posizione su uomini in modo da porgere un fronte unico alle unità rimaste. Per quanto riguarda l'artiglieria gli avversari sono messi peggio però non per questo sono meno pericolosi. Comunque sia si può vedere che l'obice da 7 libre è ormai molto distante dalle unità prussiane alleate e quindi diventa molto meno efficace. Il generale inglese carica l'unità di obice dei prussiani mandandolo in fuga quasi però prima anzi prima di mandarlo in fuga cambia obiettivo e carica i fuciliari prussiani e ormai sembra che non ci sia più speranza per lui. Avanzano un po' gli eserciti inglesi e l'esercito prussiano nemico verso l'esercito prussiano buono e già vista d'occhio si può vedere che ormai i nemizi hanno poche speranze di vittoria infatti sono ridotti male, arrivo a qualche bella botta dall'artiglieria nemica però non c'entra il bersaglio per fortuna. Avanzano gli inglesi verso i nemici però stanno subendo troppe morti ed è probabile che vadano in fuga prima o poi. Il prussiano avversario invece si sta posizionando per il tiro però le sue unità sono ridotte a pochi uomini inoltre il generale nemico parte alla carica una carica praticamente suicida addosso ai fucilieri prussiani i quali subiscono il colpo però non perdono troppo morale e senza grossi problemi riescono a mandare in fuga il generale aiutati anche dal proprio generale ormai quindi lo scontro sembra non avere molto da dire è stata una battaglia molto lunga io ho cercato di tagliare le parti noiose delle prime scaramucce in ogni caso come si è visto gli avversari hanno cercato di utilizzare questa collinetta però se avessero cercato di utilizzarla un po' meglio magari lo scontro sarebbe potuto andare in maniera totalmente diversa ormai i prussiani alleati stanno andando a distruggere l'ultima unità di artiglieria nemica e la battaglia è conclusa più o meno è stato uno scontro bilanciato in ogni caso per ora questo è tutto vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima battaglia per l'attenzione e alla prossima